Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il rapper Fedez si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in Sardegna insieme ai figli Leone e Vittoria. Recentemente ha dedicato un post sui social ai suoi bambini arrabbiati, scatenando speculazioni su una possibile frecciatina alla sua ex moglie Chiara Ferragni. Attraverso Instagram, Fedez ha condiviso foto e video dei momenti di gioco con i figli, mostrando Leone imbronciato e Vittoria che gli impartisce una lezione sulla felicità. Alcuni hanno interpretato queste parole come un messaggio nascosto rivolto a Chiara Ferragni, ma sembra più probabile che il rapper abbia semplicemente voluto condividere i momenti speciali trascorsi con i figli. Mentre la coppia sembra aver superato la separazione, i fan continuano a scrutare ogni gesto e parola dei due per cercare indizi su possibili tensioni. Tuttavia, Fedez sembra concentrato solo sul godersi il tempo con i suoi bambini e sulla condivisione di questi momenti con i suoi follower sui social media. In un periodo in cui le dinamiche delle celebrità sono costantemente sotto i riflettori, ogni gesto opposto diventa oggetto di analisi e speculazioni. Tuttavia, sembra che Fedez stia semplicemente vivendo la sua vita familiare in modo autentico e sincero, senza lasciarsi coinvolgere.